Eh no, si chiama Hufflinger, no ci somiglia ma è più più quello che dico io. Ora 8.16 a Rampogno, Don Angelo Berlusconi, i nomi sono questi per Bernasconi, i nomi tipici locali, no? Eh, è il comune di Rampogno qua. Capito? Come mai questo? Mi lascio ridurre la roba lì. Eccola qua. Vengo qui, s'ho scusata. Abbiamo ancora fatto il castelliere. Eh? Andiamo a vedere il castelliere, dai. Villagetale del Bronzo. Ho anche persiccia aramica. Questo è stato un'antichristi, per il primo è che è stato un'antichristi. Stavo lì, no, si è per il picnic. Vedo un po' della parte opposta. C'è anche la panchina. E lì c'è già la rete della Svizzera. ... ... ... ... ... ... ... ... E' bella comunque. Piccola ma graziosa, no? ... ... ... ... ... ... era molto più grande. Ah, e poi come mai esce? Grazie. Grazie? Bel cavalù. Sono vostri? No. Ah, ho capito. Belli, sono bel cavalli. Buona prosecuzione, buongiorno. No, vedeteci. Bel cavalù. Belli, belli. Che belle bestie che sono, vero o no? Anzi, vuoi fare una carezza, eh, mio? Eh, l'ho fatta. Eh, che belle bestie. Adesso andiamo a, a cosa, a Dizzasco? Qualcosa di, a festa degli asini? Riusciamo? Eh, proviamo, vediamo un po' che ambiente c'è. Sono 9.50, l'onore decorosa. Grazie. Buona. Grazie. 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 Se fossi positivi, mi seguite adesso semplicemente Anja Perasino, preso Barierica, a Zetisaglia preso Orisato l'Est e Moronica, preso Barierica. Bianco me lo fa bello, grazie. Solo bianco. Dove è l'artista? Chi è? Dove? Dove è? Vedete, vedete, vedete dove è? Vedete dove? È lì. Vedete... Vedete che dove è seri un po' più importante. Grazie. E si può dire che è bravissimo. Grazie. Giusto riconoscimento? Grazie. Prego, prego, grazie a voi. Non so neanche cosa c'è. Di qua è il giro a sinistra. Sì. 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 Pronto. Pronti? Sì. Sì. No tutti i piedi 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 piedi. Prima di tutto vogliamo insegnarvi come prenderemo la felicità. che bello che sei coinvolgendo i miei bambini dunque, in attitudine questa è la nostra parola magica per identificare la felicità pronto? 1, 2, 3, felicità! questo basta basta, ho capito? basta basta e dai mezz'ora avanti questa cosa, scusate tu allora, dunque il vostro ruolo nell'attitudine principale potete mettere le gambe signe di varicate le braccia e le mani signe di varicate e quando noi apriremo la mappa magica, voi dovrete urlare dal posto la vostra felicità dritti verso la mappa siete pronti? fate un urlo, vai! 1, 2, 3 molto bene, ora rilassiamo le braccia, rilassiamo le braccia così, sentiamo un po' e poi ci sono i miei bambini che partecipano e poi ci sono i miei bambini che partecipano oh, pronti e ancora un minuto, dai allora, posizione, vai! guarda quello che dici sei pronto? per fare il balletto uguale, eh? uguale? si, uguale, pronto? vai posizione, posizione allora al fine del balletto apriamo la mappa allora fe li ma lì guarda ma come muovo? si dira calentare e scusate, allora, posizione, posizione, posizione affetto, vai, eh? li ci cos'è una gallina col mal di schiena? cos'è una gallina col mal di schiena? cos'è una gallina col mal di schiena? ma uguale! ma chi te l'ha insegnato? ma chi te l'ha insegnato? scusate, eh, questa è una volta buona vai schiacciamo il tiro, faccio così pronto? e ri ci ta 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 e lei? alle maschere e lei? e lei? ho detto qua dietro, c'è l'intrattenimento per i dici ci devo farlo vedere ci devo fare questo asciutto ce l'ho già qua asciutto ma non 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 la maschere e ci dovremmo però incrociare gli asini, eh? c'è 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 Grazie. Grazie. Guardate se non è bello questo, non so io. Grazie. Ehi, non so se c'è qualcosa che vogliono mangiare, eh? Eh, vogliono mangiare. E il generale ci sono, poveracci. Vieni. Oh, si deve essere un po' di sale, per dire. E lo zucchero? Eh, un po' di dubbio gusto. Guardo. Signora, queste sono offerte. Ah, ho capito. Sono della valle, offerta per l'organizzazione. Ah, bene, bene. Questi 10 euro di. Bene. Posso dire grazie? Prego. E' bello o no questo? E' bello o no questo? E' bello o no? coi coperchi magari da bere hai visto? qui c'è il test d'asino hai visto? provi a vedere è buona questa acqua provi a bere è buona? provate? provi a bere poi l'acqua poi lì ci diviene più grazie a tutti o su qualche giornale di gossip? buongiorno buongiorno passavo non è interessa al ritorno magari grazie 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 a che venature che c'è? ecco i chiodi è speciale c'è a casa due tonchi di oliva qualche mila ma quanti sono brochi Buongiorno. 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 Dimmi. Eh? Vabbè cosa facciamo adesso? Vabbè... Ma... Prendi i selamini? Oh! Sì! 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 Sì... Sì! Sì! Benazia, Benazia guarda un po' lì, le teste degli asini, le hai viste quelle? Benazia e Benazia's cucina, si per la lavorazione tradizionale del ferro battuto, vi aspettano i nostri fabbri, si va attraversando tutti quei rod fram, dove c'è il fabbro che fa vedere come si lavora? non c'è un posto dove c'è un po' di cose da mangiare non so a parte quello non so e tutti i ingredienti naturali purtroppo non riprendo lei è meglio così sorridi è il momento che qui qui subito vogliamo vedere il suonatore è il momento che è un artista dell'accademia che vi accompagna a un tour partirà tra un 5 minuti siamo qui dove ci sono i musicisti grazie hanno fatto bellissimo Ma eravamo giù, ho detto chissà se vi vediamo quest'anno i gasinelli del giudetto. Eh, allora, per me adesso sì. E la sera la cassiera, e lui sera il padrone, e la lui sera belle, il sera un nevra pachà, e tutti i suoi per lei, il il jourà la java. E lui sento alla cinema. I serve delle nuove nuove, o pressione, che trigare facoltà i segnali del giù... . Guardate i micro robini, guardate i lavori. Guardate i lavori. Guardate questi lavori. Guardate questi lavori. Sono belli questi lavori. Guardate lì un altro asino. Guardate la sinistra. Guardate i lavori. Guardate qui. Guardate qui. Guardate qui. che si raggiungeva dall'altra parte, non si può andare anche da qua, non si è? Hai visto? Guarda con attenzione quella roba lì, bella eh? Allento allento, allento... Chiudo? sono tornati a pesello non sono fioriti bene questi fiori? non sono fiori 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 non sono fiori